che c'è? sono stanca, non ho neanche mangiato oggi, ne è andata giù una spossatezza tutto in una volta vuoi un biscotto? noi li abbiamo dietro le quinte, se prendiamo un biscotto ha proprio un calo di zuccheri, si si c'è, c'è un biscotto, peraltro buono con dentro le gocce di cioccolato grazie, guarda l'ho mangiato prima Igna